Qui sulle FB ci saranno un difensore esterno, terzino destro, raccontaci un po' quale è stata la tua carriera fino ad oggi. Fino ad oggi sono venuto all'Italia nel 2014 e poi sono andato in Francia, ho giocato lì, ho fatto la primavera lì, prima di tornare qua. Quando sono tornato qua sono andato all'Inveruno, ho giocato qualche partita, in gennaio sono arrivato e poi l'anno scorso ho giocato il FNG. E' il percorso che ho fatto fino ad oggi. Sei un 96, quindi sei un giovane ma sei già allo stesso tempo, non sei più giovane. Non sono più giovane. Nel senso che non sei più nella categoria degli anni. Esatto, esatto. Secondo te riuscirai a trovare spazio in questa squadra e conosci già il mister? Sì, sì, conosco già il mister, sì, sì. Eravamo insieme l'anno scorso, era a fine quello calcio. Sì, è così dai, speriamo che potrò portare qualcosa alla squadra di Saronno e poi dai, vedremo come... Sai che Saronno è una piazza importante con un pubblico anche caldo. Sì, sì, sì. Ho giocato qua l'anno scorso e... Ti ricordi? Mi ricordo bene, sì, mi ricordo, mi ricordo. In bocca al lupo. Sì, grazie mille.